Non possiamo fare più queste scale, che io ho avuto una trombosi, ripeto, per gli arti inferiori, c'è un certificato dal dottore che io non posso camminare più con le scale. Ecco qua. Da un mese senza ascensore, con la prospettiva di non sapere se e quando potrà essere aggiustato, arrivano da Trepuzzi le prime avvisaglie di quello che potrebbe accadere il prossimo 18 marzo, quando nelle palazzine delle case popolari dello IACP di tutta la provincia saranno staccati i servizi per morosità, avendo l'Istituto Autonomo Case Popolari accumulato un pregresso non saldato dagli assegnatari di circa 6 milioni di euro. Ci sono le persone che sono arretrate con le bollette, però non perché non vogliono pagare, ma perché sono impossibilizzati, semplicemente perché sono disoccupati, ma disoccupati nel vero senso una parola. Un problema di difficile soluzione, come fa notare l'amministratore del condominio, soprattutto dopo la recente modifica della legge regionale 54 dell'84, che regola il funzionamento delle autogestioni, a sollevare l'OIACP dal farsi carico delle morosità degli assegnatari. Il servizio non viene ripristinato perché ormai, ma non soltanto qui, le ditte fornitrici dell'OIACP, cioè quelle che devono fare poi i lavori, siccome l'OIACP poi non provvede al pagamento, sono naturalmente stanchi anche di fare dei lavori, fare dei preventivi per poi non essere pagati. È un problema che non vuole essere risolto e non ci sono in questo momento, non vedo assolutamente prospettive per risolvere, non soltanto qui, ma in tutta la provincia di Legge.